Il processo alla mafia agrigentina che si è celebrato con il rito abbreviato al Tribunale di Agrigento si è concluso con 12 condanne e 10 assoluzioni. E' il processo scaturito dall'operazione denominata Icaro, messa a segno nel dicembre del 2015 nei confronti di 34 persone, 16 delle quali erano state raggiunte da ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giudice per l'audienza preliminare ha condannato a 14 anni di reclusione Pietro Campo, 65 anni di Santa Margherita Belice, 14 anni e 8 mesi per Antonino Iacono, 61 anni di Agrigento, stessa pena per Francesco Messina, 60 anni di Porto Empedocle, zio del boss Gerlandino Messina, 10 anni per Rocco D'Aloisio, 46 anni di Sambuca di Sicilia, 8 anni e 8 mesi per Tommaso Baroncelli, 40 anni di Santa Margherita Belice, 10 anni e 8 mesi per Mauro Capizzi, 47 anni di Ribera, 10 anni per Francesco Capizzi, 50 anni di Porto Empedocle, 10 anni per Francesco Tarantino, 29 anni di Agrigento. E ancora, 10 anni e 4 mesi sono stati infritti a Giacomo Lasala, 47 anni di Santa Margherita Belice, 10 anni per Santo Interrante, 34 anni di Santa Margherita Belice, 3 anni e 4 mesi per Emanuele Riggio, 45 anni di Morreale e 10 anni per Diego Grassadonia, 54 anni di Cianciana. Le assoluzioni riguardano invece il figlio di Pietro Campo Giovanni di 36 anni, Domenico Bavetta, 34 anni di Montevago, Giuseppe Picillo, 53 anni di Favara, Gioacchino Iacono, 36 anni di Real Monte, Giuseppe Lopilato, 44 anni di Agrigento, Piero Guzzardo, 37 anni di Santa Margherita Belice, Gioacchino Cimino, 61 anni di Agrigento, Francesco Pavia, 35 anni di Porto Empedocle, Domenico Cucina, 48 anni di Lampedusa e Leonardo Marrella, 38 anni di Montallegro. Le altre persone coinvolte nell'operazione Icaro vengono giudicate con il rito ordinario. Il processo ha preso il via agli inizi dell'anno al Tribunale di Agrigento e dovrebbe concludersi nel prossimo mese di novembre.